Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo romano del concilio di Trento, che è giunto alla parte 26. Questa sera riprendiamo la trattazione del sagramento del battesimo, che come abbiamo accennato più di qualche volta occupa un ampio spazio in questo catechismo, proprio per far capire quanto è importante questo sagramento. Riprendiamo dal paragrafo 169 che si occupa della materia del battesimo. Vedremo anche la forma nel paragrafo 170 sicuramente, le cose necessarie alla forma e anche i vari tipi di abluzione sicuramente. Poi se avremo tempo di andare anche oltre lo vedremo, lo verificheremo. Comincio subito la lettura e il commento del paragrafo 169 dedicato appunto alla materia del battesimo. Materia o elemento di questo sagramento è ogni genere di acqua naturale, sia di mare, sia di fiume, palude, pozzo o fonte. Quella che suol dirsi acqua senza aggettivi specificativi. Insegnò infatti il Salvatore, chi non rinascerà per acqua e Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio. E l'Apostolo, la Chiesa è stata purificata in un bagno di acqua. Nella lettera di San Giovanni leggiamo Tre sono i testimoni sulla terra, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E altre testimonianze della scrittura lo confermano. A questo proposito, la frase di Giovanni Battista, secondo la quale il Signore doveva venire per battezzare nello Spirito Santo e nel fuoco, non deve affatto essere riferita alla materia del battesimo. Essa si riferisce all'azione interiore dello Spirito Santo o sicuramente al miracolo avvenuto il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese dal ciclo, dal cielo, scusate, sugli Apostoli sotto l'aspetto di fuoco. Il fatto era stato predetto in altro luogo da nostro Signore Gesù Cristo con le parole Giovanni battezzò in acqua, voi però sarete battezzati nello Spirito Santo di qui a non molti giorni. Possiamo ricavare dalle Sacre scritture che la medesima verità era già stata indicata da Dio nei simboli e negli oracoli profetici. Il Principe degli Apostoli, nella sua prima lettera, 1 Pietro 3, versetto 20, mostra che il diluvio da cui il mondo fu purificato quando la malvagità degli uomini era giunta al colmo e la preoccupazione di ogni cuore avviata al male racchiudeva la figura e l'immagine di quest'acqua. San Paolo poi, scrivendo ai Corinzi, mostra che il passaggio del Mar Rosso è una figura della medesima acqua, senza dire poi dell'avacro del siriano Naaman, né della mirabile efficacia della piscina probatica, né di molti altri episodi affini in cui è facile scorgere il simbolo di questo mistero. Nel dominio poi delle profezie, nessuno può evocare in dubbio che le acque a cui con tanto zelo inviava Isaia in vita tutti gli assetati, capitolo 55, versetto 1, o quelle che Ezechiele vide in spirito zampillare dal Tempio, capitolo 47, sempre di profeta Ezechiele, o la fonte che Zaccaria preannunziò alla stirpe di Davide e agli abitanti di Gerusalemme per la purificazione del peccatore e della donna impura, Zaccaria 13, vogliano alludere alla salutifera acqua battesimale. Scrivendo a Oceano, San Girolamo espone con molti argomenti, quanto bene rispondesse alla natura e all'efficacia del battesimo, che l'acqua fosse prescelta come materia. I pastori potranno accennare in proposito alla circostanza che essendo questo sacramento indispensabile a tutti per il conseguimento della vita, l'acqua era la materia più opportuna trovandosi dovunque e da tutti potendosi facilmente procurare. In secondo luogo l'acqua esprime magnificamente l'effetto del battesimo. Come infatti l'acqua elimina la sporcizia, così può indicare l'azione efficace del battesimo, mediante il quale sono cancellate le macchie dei peccati. Infine, come l'acqua è l'elemento più indicato per rinfrescare i corpi, così mediante il battesimo si estingue in gran parte il fuoco delle passioni. Dobbiamo però osservare che sebbene l'acqua semplice, priva di ogni altro elemento commisto, è materia atta all'amministrazione del sacramento, quando però sia urgente amministrarlo, tuttavia, in base ad una tradizione apostolica, la Chiesa Cattolica ha sempre rispettato l'uso di un'irre del sacro crisma, quando il battesimo viene amministrato con sorennità, affinché l'effetto del sacramento fosse meglio espresso. Infine, sebbene tra loro vi possa essere qualche dubbio, se questa o quella sia la vera acqua più idonea al sacramento, si dovrà rilevare assolutamente che il sacramento del battesimo non può essere mai e per nessuna ragione amministrata con altra materia che non sia l'acqua naturale. La forma del battesimo, 170. Qui non c'è moltissimo da aggiungere, è una piccola lezioncina che ha fatto questo numero, anche sulle prefigurazioni vetro-testamentarie dell'acqua del battesimo, molto molto bella, che peraltro sono contenute soprattutto nella benedizione del fonte pasquale e della viglia pasquale, tutte quante queste allusioni e tipologie vetro-testamentarie. Ed anche appunto questa nota graziosa, presente per tutti i sacramenti, perché la materia dei sacramenti è stata scelta da Nostro Signore, Nostro Signore sostanzialmente non è uno che fa le cose tanto per farle. Quindi siccome il battesimo ci lava dal peccato, l'acqua è un simbolo quantomai eloquente, perché l'acqua ci lava dalla spostituzione del corpo, l'acqua ci rinfresca, l'acqua ci... l'acqua del battesimo modera il fuoco delle passioni. Io personalmente ho sempre aggiunto anche un'ulteriore considerazione, perché l'acqua è la vita, noi senza l'acqua non possiamo vivere. E il battesimo infonde in noi la vita della grazia, no? Sapete, noi possiamo stare senza mangiare, anche abbastanza a lungo, senza bere, no? La grande maggioranza di quello che c'è dentro il nostro corpo è acqua, penso che tutti lo sappiamo, no? Quindi l'acqua proprio per quanto riguarda la vita, sapete quando vanno in giro a cercare tracce di vita nei pianeti sparsi per i sistemi solari e estrafolari, cosa cercano? Se ci sono tracce di acqua. Perché se non c'è acqua, la vita, state tranquilli che non c'è. Quindi è un segno molto forte, una simbologia molto forte. Ora passiamo alla forma, paragrafo 170. Spiegata diligentemente in una delle due parti del battesimo, e precisamente la materia, i pastori cercheranno di illustrare con la medesima diligenza la seconda parte, ugualmente necessaria, ossia la forma. Porranno singolare cura e zelo in tale spiegazione del sacramento, non solo perché la conoscenza di così sacro mistero può naturalmente recare vivo di letto ai fedeli, come si verifica sempre in ogni studio delle cose divine, ma anche perché giova enormemente nelle contingenze quasi quotidiane. piccola notazione, siamo d'accordo che la conoscenza dei misteri reca vivo di letto ai fedeli. Proviamo noi vivo di letto, possiamo pensarci un po', nel conoscere i sacri misteri e aggiunge come si verifica sempre nello studio, in ogni studio delle cose divine. E a questo ci dobbiamo chiedere. È materia di diletto per noi questo? Stiamo dilettando nell'ascoltare la lettura del Catechismo? Dove poniamo la nostra gioia? C'è un bellissimo Salmo che dice cerca la gioia nel Signore e Lui esadirà i desideri del tuo cuore. Oppure un altro, quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Questo è un passo della saga scrittura dell'Antico Testamento. La tua parola fu la gioia e la delizia del mio cuore perché io portavo il tuo nome, Signore degli eserciti. Quindi però sta spiegazione del sacramento, qui dice che la devono spiegare perché così gli daranno un grande diletto dello spiegare il sacramento. Del resto è cosa normale, ogni volta che studiano le cose divine, ma è anche molto importante per le contingenze quasi quotidiane. Come meglio mostreremo a suo luogo, si offrono innumerevoli circostanze nelle quali è necessario che il battesimo sia amministrato da gente del popolo, spessissimo ma anche da donna. Occorre quindi che tutti i fedeli senza distinzione conoscano bene quanto si riferisce alla sostanza di questo sacramento. Qui è evidente a cosa sta facendo riferimento. Guardate che questo è un problema, a mio avviso, serissimo. Perché dice che è necessario che il battesimo sia amministrato da gente del popolo, spessissimo anche da donne. Faceva riferimento a quelle che un tempo venivano chiamate le levatrici e poi quando è uscito questo catechismo non si andava a partorire in ospedale. Ma un tempo era chiarissimo che il battesimo va amministrato con la massima urgenza possibile e che per quanto possibile non bisogna promettere che nessuna anima si presenti al cospetto dell'altissimo senza battesimo. Quindi perché anche tanta importanza pastorale? Perché tante levatrici si possono trovare in condizioni di dover amministrare il battesimo e quindi devono sapere che devono usare l'acqua e devono sapere che devono dire io ti battezzo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Come si vedrà tra pochissimo che è la forma del battesimo. Perché il battesimo come vedremo c'è un ministro ordinario che è il ministro sacro. Un ministro straordinario, una delle poche volte in cui si parla con condizione di causa e di santa ragione di qualche ministro straordinario è il battesimo. Di cui sono mesi straordinari, vedremo tutti. Proprio perché un tempo le parole che abbiamo sentito nel paragrafo precedente, chi non rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Dinanzi alle parole di nostro Signore Gesù Cristo, noi non possiamo minimizzare, ignorare, ma capiamo che quelle parole non le ha pronunciate Pinco pallino. Le ha pronunciate il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e sa quello che dice. Per cui la rinascita dall'acqua e dello Spirito Santo non è un optional. E guardate che oggi nella nostra cultura questa cosa non c'è più. Tanto è vero che in tantissime diocesi, ahimè, e dico ahimè perché insomma il diritto di critica garbata e composta, spero che sia rimasto insomma anche nella nostra amata Chiesa, se no bisogna preoccuparsi, è stato proibito di amministrare il battesimo negli ospedali. Io sono stato battezzato in ospedale e sono felicissimo di essere stato battezzato in ospedale, perché mia mamma aveva imparato dalla nonna che si va a partorire e prima di tutto tu non riporti in casa il bambino non battezzato. Padre Pio diceva uno schiavo di Satana. Provate ad andare a dire in giro oggi, ah ti riporti a casa il bambino non battezzato, ti porti uno schiavo di Satana. Guardate che chiamano il 113 eh, se tutto va bene. ma nel rituale del battesimo in vetus sordo ci sono due esorcismi, gli unici due che può pronunciare qualunque prete anche non esorcista senza nessun permesso perché se fanno parte del rito del battesimo. Ma sono esorcismi che se vi leggessi il testo, cioè non è un esorcismo dal contenuto molto diverso da quello che nell'esorcismo maggiore viene rivolto a un ossesso in senso stretto. Questo non perché il bambino sia un indemoniato come un ossesso un posseduto, però c'è un problema, una verità di fede che oggi non è nato da acqua e da spirito, è assegnato dal peccato originale. Per il peccato originale quello non c'ha la grazia santificante, quello c'ha impresso il segno, il marchio satanico. Purtroppo non sono frottole queste qui, non sono leggende, nessuno esagerazioni, sono cose che la chiesa ha sempre credute, ci crede anche oggi la chiesa sposa di Cristo. Non ci credono più purtroppo alcuni uomini di chiesa e alcuni figli della chiesa e membri della chiesa, ma questa cosa non può non essere creduta, perché chi non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno dei cieli. Punto. Questa cosa non può cambiare. Però è ovvio che se la diocesi toglie il permesso di battezzare negli ospedali, le ostetriche non battezzeranno i bambini che stanno in fin di vita e quindi quelli moriranno senza il battesimo. Proseguo la lettura. Pastori dunque, con parole chiare e accessibili a tutti, diranno che questa è la forma perfetta e assoluta del battesimo. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così stabilì il nostro Signore Salvatore, quando comandò gli Apostoli, andate a istruire tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche questa è parola di Gesù. Andate, predicate, battezzate ed insegnate ad osservare i comandamenti. Matteo. E in Marco dice, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato? Anche queste cose? Ma non è che possiamo prenderle e fare finta che il nostro Signore non l'ha mai dette? O dargli qualchissà quale strana interpretazione aggiornata? Questo ha detto e questo si è fatto. Punto. Dall'espressione battezzandole, la Chiesa cattolica, divinamente illuminata, dedusse con ragione che nella forma di questo sacramento doveva essere significata l'azione del Ministro. Per questo è detto io ti battezzo. E poiché era necessario indicare oltre alla persona del Ministro quella del battezzato e la causa principale operatrice nel battesimo, furono aggiunto il pronome ti, ti battezzo e la menzione specifica delle tre persone divine, padre, figlio e spirito santo. Sicché la forma completa del sacramento è contenuta, come abbiamo detto nelle parole, io ti battezzo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Che non la sola persona del figlio di Cristo e Giovanni, questo è colui che battezza, bensì tutte le persone della Santissima Trinità operano insieme nel sacramento del battesimo. Il dire nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, invece che nei nomi, esprime l'unica natura e divinità della Trinità. Qui infatti il nome si riferisce non già alle persone, ma alla sostanza, alla virtù, alla potenza, una e identica nelle tre persone. Possiamo andare avanti perché abbiamo già sufficientemente commentato questi focali passaggi. Andiamo avanti. Che cosa è necessario nella forma? A proposito di questa forma che abbiamo mostrato in te che è perfetta, si deve notare che alcune sue parti sono così strettamente necessarie che se si omettono il sacramento non si compie. Altre invece non sono così essenziali che mancando rendano il valore del sacramento. Così è il pronome io, il valore del quale è implicito nella parola battezzo. Nella chiesa greca, anzi, cambiata la frase, esso fu soppresso pensando che l'accenno al ministro non fosse affatto necessario. La forma consueta del battesimo per i greci è così concepita. Si è battezzato il servo di Cristo nel nome del padre e del figlio dello spirito santo. E il concilio fiorentino, il concilio di Firenze, importantissimo concilio di Firenze, sentenziò e definì valido il sacramento così amministrato, essendo abbastanza spiegata da quella formula la vera natura del battesimo, cioè il lavago compiuto in quel momento. Si deve forse riconoscere che vi fu un periodo nel quale gli apostoli battezzarono semplicemente nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. E noi dobbiamo allora ritenere che per certo così fecero, per ispirazione dello Spirito Santo, affinché sugli albori della Chiesa nascente la loro predicazione fosse meglio illustrata dal nome di Gesù Cristo e più ampiamente fosse esaltata la sua divina e immensa virtù. Del resto, a ben considerare la cosa, comprendiamo agevolmente che in tale formula non manca nessuna delle parti prescritte dallo stesso Salvatore. Infatti, chi nomina Gesù Cristo contemporaneamente esprime la persona del Padre da cui riceve l'unzione e quella dello Spirito Santo nel quale la riceve. Dopotutto è lescito mettere in dubbio che gli apostoli abbiano mai usato nel battezzare simile formula. Se vogliamo seguire l'autorevole interpretazione di Sant'Ambrogio e di San Basilio, padre di cosinsegne santità e autorità, con la frase relativa al battesimo conferito nel nome di Gesù Cristo, si sarebbe voluto indicare il battesimo istituito da Gesù Cristo, distinto da quello di Giovanni. Sicché gli apostoli non si sarebbero discostati dalla formula usuale contenente i nomi distinti delle persone. Anche San Paolo, nella lettera ai Galati, adopera questo modo di esprimersi dicendo che tutti voi che siete stati battezzati in Gesù Cristo vi siete rivestiti di Cristo. E vuol significare semplicemente che erano stati battezzati nella fede di Gesù Cristo, ma già con una forma diversa da quella imposta dallo stesso Salvatore, Signore nostro. Capite? Ci sono alcune espressioni neotestamentarie che sembrerebbero alludere al fatto che c'era una prassi, costituzionaria primitiva, di battezzare nel nome del Signore Gesù, senza menzionare le altre persone divine. Onde andare a sedare possibili chiacchiere che poi generano in discussioni interminabili e robe che non giocano in nulla, che non si appena niente. Se anche fosse dire ti battezzo nel nome di Gesù Cristo, il termine Cristo indica sia colui che unge, che è il padre, sia colui nel Cristo è stato avuto, che è il figlio. Quindi c'è comunque una nomina implicita delle tre persone. E ci sono pareri autorevoli di grandi dottori del calibro di Sant'Ambrogio e di San Basilio, quindi che non sono certamente gli ultimi arrivati, che dicono ma non abbiamo nessun motivo valido per ritenere che questa cosa fosse avvenuta, quanto invece piuttosto possiamo e dobbiamo ritenere che anche gli apostoli abbiano utilizzato la formula estesa e che dire è stato battezzato nel nome del Signore Gesù è semplicemente un modo per distinguere dal battesimo di San Giovanni Battista. Possono sembrarci questioni diciamo secondarie, ma capite che nel contesto storico anche in cui è stato emanato questo questo catechismo così contingenti e così secondarie in realtà non lo ero. Paragrafo 172, i tre tipi di abluzione. Basterà quanto sopra l'istruzione dei fedeli circa la materia della forma, elementi sostanziali e fondamentali del battesimo, ma nell'amministrazione del sacramento occorre anche rispettare le modalità dell'abluzione prescritta, cioè come si mette, dove si mette l'acqua santa. Quindi i pastori dovranno impartire l'istruzione anche su questo argomento. Dovranno cioè brevemente spiegare come secondo la consulutile ecclesiastica il battesimo può essere amministrato in uno di questi tre modi, immergendolo nell'acqua al candidato, versando dell'acqua sopra di lui o aspergendolo d'acqua. Qualunque dei tre riti, qualunque dei tre sia rito osservato, dobbiamo credere che il battesimo è regolarmente compiuto. Infatti l'acqua è adoperata nel battesimo per esprimere l'abluzione dell'anima che esso opera e per questo il battesimo è detto dall'apostolo lavacolo. Ora l'abluzione non cessa di essere tale sia che uno si immerga nell'acqua, come fu praticato a lungo nei primi tempi della chiesa, sia che riceva dell'acqua versata come è usato oggi, sia che non riceva l'aspersione come risulta aver fatto San Pietro quando in un solo giorno convertì e battezzò 3.000 individui. Non ha importanza che l'abluzione sia unica o triplice. Risulta chiaramente dalla lettera di San Pietro Romagna a Leandro che l'una e l'altra maniera di conferire il battesimo è stata in vigore nella chiesa e può esserlo tuttora. Ad ogni modo i fedeli si uniformeranno al rito seguito nella loro chiesa. E attenzione, occorre piuttosto ammonire che deve essere bagnata non una qualsiasi parte del corpo, ma precisamente il capo, centro di tutti i sensi esterni ed interni. E chi battezza deve pronunziare le parole della forma sacramentale nel movimento stesso in cui si compie l'abluzione né prima né dopo. Queste sono le cose veramente importanti. Sapete che in valsa negli ultimi anni, anche a causa di certe realtà ecclesiali che ne sottolineano in modo anche un po' eccessivo a mio avviso l'importanza, la prassi dei cosiddetti battesimi per immersione, che risalendo all'età apostolica di per sé, nulla questione. Anche se corre il rischio a mio avviso, per questa mia opinionissima, mia opinione personalissima, quindi del tutto opinabile di fare un po' troppa spettacolarizzazione di questo momento. Va bene, però c'è una cosa importante, tant'è vero che io ricordo benissimo, anni addietro, ci fu una riunione del clero, dove fu detto dal vescovo, mi raccomando che qui sono uscite delle istruzioni da parte della Santa Sede, quando si amministrano i battesimi per immersione, mi raccomando, l'acqua sulla testa ci deve andare, non è che si può immergere fino al petto e lo tiri fuori, perché qui c'è un problema proprio di validità dopo, quello non è stato battezzato se non viene messa l'acqua in testa. Quindi, attenzione, quindi, chi ascolta queste cose, non so se le ascolterà qualche sacerdote, ma sicuramente i fedeli, se dovesse capitare di vedere un battesimo dove Dio non voglia, per qualche svista voglio sperare, il sacerdote dovesse, oppure perché c'ha paura, che ne so, che c'è questo ragazzino piccolo, perché almeno una volta deve essere immerso completamente. o quantomeno l'acqua sulla testa ci deve andare per forza, se no quello non è battezzato. Quindi, capite che nei sacramenti, cioè l'osservanza precisa delle norme rituali, è avvaliditata, ma non è... bisogna capire quali sono, appunto, gli elementi integranti, il sacramento, quindi quelli che condizionano la validità e quali sono gli accessori, per esempio, gli ha dato la spiegazione. Se tu dici, ti battezzo nel nome del Padre, del Spirito e del Spirito Santo, senza mettere io, non fa niente. Ma se non bagni la testa, fa. Bene. Istituzione del Battesimo, numero 173. Se abbiamo ancora un pochino di tempo, non rende troppo pesante, sì. Dopo aver esposto tutto ciò, converrà a insegnare e ricordare ai fedeli che il Battesimo, come tutti gli altri sacramenti, fu istituito da nostro Signore Gesù Cristo. I pastori tornano di frequente su questo punto, spiegando i due momenti del Battesimo. Il primo, quando il Salvatore lo istitui. Il secondo, quando impose l'obbligo di riceverlo. Il Battesimo risulta istituito da nostro Signore quando egli stesso, battezzato da Giovanni, infuse nell'acqua la capacità di santificare. Ce l'avete mai pensato? Il Battesimo che Gesù ha ricevuto, ovviamente non era un sacramento. Ce manca soltanto perché il Battesimo viene amministrato per la remissione dei peccati. Il Battesimo di San Giovanni era un simbolo di penitenza, non era un sacramento. Però, ricevendo quel sacramento, Gesù, immerso nell'acqua, infonde nell'acqua la capacità di santificare. Secondo San Gregorio di Nazianzo, che non è l'ultimo arrivato, e Sant'Agostino, idem, in quell'istante, appunto, l'acqua ricevette la capacità di generare alla vita spirituale. Altrove, lo stesso Sant'Agostino ha scritto, da quando Gesù Cristo si immerse nell'acqua, l'acqua cancella tutti i peccati. E Sant'Ambrogio, il Signore si fa battezzare non perché è bisognoso di purificazione, ma perché le acque, purificate al contatto della sua carne immacolata, acquistino la forza di lavare spiritualmente. Anche Sant'Ambrogio è un altro calibro da 90. Quindi, tale verità appare dal fatto che in quel momento la Santissima Trinità, nel nome della quale il battesimo viene amministrato, quindi quando Gesù viene battezzato, manifestò chiaramente la sua presenza. Fu percepita la voce del Padre, la persona del Figlio era presente, e lo Spirito Santo discese in forma di colomba. Inoltre si dischiusero i cieli di cui il battesimo ci apre l'accesso. oltrepassa la capacità della nostra intelligenza, il sapere in che modo così insegna e divina virtù sia stata dal Signore infusa nelle acque. Ma sappiamo, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio, che avendo il Signore ricevuto il battesimo, l'acqua rimase consagrata per il salutifero uso battesimale dal contatto del suo corpo purissimo e immacolato. Perciò dobbiamo credere che per quanto istituito prima della passione, questo sacramento già da allora attingeva forza e virtù dalla passione stessa, essendo questa il fine di tutte le azioni di Gesù Cristo. Né sussiste possibilità di dubbio sul tempo in cui fu emanato il precetto del battesimo. Gli scrittori ecclesiastici sono concordi nel ritenere che tutti gli aspiranti alla salvezza eterna cominciarono ad essere vincolati dal precetto del battesimo nell'istante in cui, dopo la risurrezione, il Signore comandò agli apostoli andate a istruire tutte le genti battezzandolo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ciò risulta dalla testimonianza autorevole del Principe degli Apostoli. Ci ha rigenerati in una speranza viva con la risurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Si può arguire pure da San Paolo diede se stesso per lei ossia per la Chiesa per santificarla purificandolo in un lavacro di acqua con la parola. L'uno e l'altro apostolo infatti fissano l'obbligo del battesimo al tempo che seguì una morte del Signore. Perciò appare ragionevole rifenire al periodo che doveva seguire la passione le parole stesse del Salvatore. Chi non rinascerà per acqua e Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio. Se i pastori esporranno con cura queste verità i fedeli riconosceranno indubbiamente la straordinaria divinità del battesimo e concepiranno per esso la più schietta venerazione. Rifletteranno sopra i ricchi e magnifici doni simboleggiati nei miracoli verificati nell'istante in cui Gesù Cristo fu battezzato e che sono distribuiti a tutti i battezzati per intima virtù dello Spirito Santo. In verità, se i nostri occhi, come quelli del servo di Eliseo, si aprissero in modo da scorgere alle celesti realtà, certamente nessuno sarebbe così stolto da non essere portato alla più intensa ammirazione dei divini misteri battesimali. Perché non pensare che lo stesso possa accadere con loro i pastori spieghino le ricchezze del battesimo in modo da rendere i fedeli capaci di contemplarle non certo con gli occhi corporei ma con lo sguardo dell'intelletto illuminato dallo splendore della fede. E vediamo adesso l'ultimo punto di oggi che è la triplice categoria di ministri del battesimo paragrafo molto interessante 174 E ora non soltanto utile ma necessario mostrare da quali ministri debba essere confiuto il battesimo sia perché coloro che principalmente affidata dalle funzioni cerchilo di adempierla con sentimento di pia religiosità sia per evitare che qualcuno balicando i propri confini penetri disordinatamente o irrompa audacemente in terreno non proprio ammonisce infatti l'apostolo di rispettare l'ordine stabilito in tutte le cose. Si deve dunque insegnare fedeli che vi sono tre categorie di ministri del battesimo Alla prima appartengono i vescovi e i sacerdoti ai quali spetta di diritto non in virtù di un potere straordinario compiere simile ufficio. Ad essi nella persona degli apostoli fu comandato dal Signore andate battezzate. In pratica poi i vescovi usarono rilasciare il ministero battesimale ai sacerdoti per non essere costretti a trascurare le più gravi doverte di istruzione. I sacerdoti del resto compiono tale funzione per diritto proprio sicché possono amministrare il battesimo anche alla presenza del vescovo come risulta dalla dottrina dei padri e dalla plassi della Chiesa. Se infatti i sacerdoti furono istituiti per la consagrazione dell'Eucharistia sacramento di pace e di unità era naturale che fosse loro concesso la facoltà di amministrare tutti i mezzi necessari a ciascuno per partecipare a quella pace e a quell'unità. Qualche padre è vero sostiene che i sacerdoti non posseggono l'autorità di battezzare senza il permesso del vescovo ma tale restrizione deve intendersi di quel battesimo che secondo l'uso viene amministrato solennemente in determinati giorni dell'anno. I diaconi rappresentano la seconda categoria di ministri molte testimonianze delle santi padri assicurano che ad essi non è lecito amministrare il battesimo senza permesso del vescovo o del sacerdotore. Infine alla terza categoria appartengono coloro che in caso di necessità possono battezzare senza lo spiegamento solenne delle cerimonie. In questo numero rientrano tutti anche le persone del volgo maschi o femmine a qualsiasi setta appartengono e quando urge il bisogno anche agli ebrei ai pagani agli eretici è permesso di battezzare purché si propongano di compiere quello che compie la chiesa cattolica nell'amministrazione del sacramento. Numerosi decreti di padri e di concili garantiscono questa possibilità e il sacro concilio di Trento emanò sentenza di scomunica contro chi sostenga che il battesimo amministrato dagli eretici nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo con l'intenzione di fare quel che fa la chiesa non è un vero battesimo. Lo sapevate? Perché tutto questo? Perché questo è un sacramento indispensabile alla salvezza. Per cui perfino un musulmano perfino un eretico ti dice io ti battezzo nel nome del padre e del figlio dello spirito santo basta che abbia l'intenzione di fare quello che fa la chiesa in questo sacramento e il battesimo è valido. Possiamo ammirare scrive il testo in questo l'infinita bontà e sapienza di nostro signore dovendo tutti necessariamente ricevere questo sacramento egli scelse per madera l'acqua elemento più comune che esista e non volle escludere nessuno dalla capacità di amministrarlo. Naturalmente non a tutti è consentito svolgere le solenne cerimonie perché queste rivestano non già maggiore dignità bensì minore necessità del sacramento si badino oltre che tale facoltà non spetta tutto in modo generico ma si deve rispettare una certa genocchia dei ministri né la donna qualora siano presenti degli uomini né un laico alla presenza di un chierico né infine un chierico alla presenza di un sacerdote si arrogheranno il diritto di amministrare le battesime però non sono da rimproverarsi nelle matrici che sogliono a battezzare qualche volta anche la presenza di un uomo per nulla pratico di simile amministrazione sacramentale e compiono un rito che normalmente sarebbe più appropriato a un uomo quindi abbiamo capito questa prassi questa disciplina e tutte queste cose oltre che a farci comprendere la dignità del sacramento del battesimo ci fanno comprendere la sua necessità le parole che Gesù ha detto che non rinasce d'acqua e da spirito non entra nel regno dei cieli non sono acqua l'ordine che lui ha dato è un ordine perentorio apodittico andate in tutto il mondo ammaestrate tutte le nazioni e battezzate nel nome del padre e del figlio e del spirito santo si deve fare è la missione della chiesa è la sua ragione d'essere voi capite che operazione che ha fatto il diavolo che adesso i battesimi niente ospedali ma che niente parrocchie 7 8 9 10 mesi 11 12 mesi 2 anni 3 anni 4 anni e è in aumento il caso di il numero di persone che non fanno battezzare figli io io da prete ho fatto sempre il parroco ho assistito ad una proprio precipitazione dei numeri dei battesi battezzati e amministrati ogni anno altro segno dei tempi bene si apre poi il discorso sui padrini che è un discorso molto articolato perché prende due paragrafi e perché è meglio riservarlo ad una trattazione a parte quindi possiamo fermarci qui grazie a chiunque abbia ascoltato con attenzione sperando che questo sia stato di giovanimento per la sua anima che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga il sangue e l'uso del suo personissimo sangue su di noi sui peccatori per convertirli sui anni del purgatorio per alleviarle e consolarle